Amedeo Maiuri, Giulio Iacopi, Luciano Laurenzi, Luigi Morricone restaurarono le torri medievale 1914-1918-1915, il Museo archeologico di Lodi fu inaugurato cento anni fa. Queste persone, tra i primi della scuola archeologica di Atene, la scuola archeologico di Lodi fu inaugurato cento anni fa. La scuola archeologico di Lodi fu inaugurato cento anni fa.